ed eccoci qua buonasera buonasera a tutti io ci sono sono le ore 21 del 18 luglio 2021 quindi buonasera a tutti si sente bene 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 vedo già dei feedback positivi vedo che siete già tantissimi quindi mi fa molto 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 piacere buonasera daniela laura angelic music buonasera fiore di loto buonasera anna maria morena joana buonasera cristina buonasera anna maria palmieri buonasera live buonasera dania buonasera e vedo ancora un sacco la rosa rosi sessa che mi dice purtroppo dovrò seguirla indifferita rosa un abbraccio lo stesso ci sentiamo quando ascolterà questa diretta un abbraccio forte francesca buonasera barbara eccola qua angie buonasera lotta buonasera liliana buonasera allora e io vi do la buonasera da rimini vai questa sera mi trovo qua nella zona di rimini e quindi iniziamo subito questa diretta vedo 59 spettatori magari attendo ancora un minuto e continua a salutarvi quando siamo un centinaio vi voglio leggere una cosa fenomenale bellissima quindi buonasera giusi clara buonasera giulia buonasera luis anna buonasera ciao 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 21 e 01 stasera devo dire la verità sono molto molto emozionato questa emozione non l'avvertivo da circa un mese perché poi l'altra diretta l'ho fatta circa un mese fa quindi grazie per farmi avvertire tutta questa emozione ecco la prendo l'accetto molto volentieri e sono felicissimo di essere qua allora buonasera 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 ho detto aspetto 100 spettatori e poi inizio quindi cento siamo arrivati inizio subito leggendovi una bella favola ascoltate bene ascoltate molto bene perché tra un pochino la commenteremo insieme per dare comunque l'introduzione a questa paura a questa resistenza al cambiamento ascoltate bene tutte le mucche erano molto felici alla fattoria e non c'è da stupirsi il fattore e sua moglie erano gentili e l'erba era molto verde le mucche potevano mangiare erba anche tutto il giorno che avrebbe potuto chiedere chiedere di più muriel muriel era scontenta guardate quanto è verde l'erba dall'altra parte dello steccato disse muriel quella fattoria è più bella di questa questa è bella dissero le altre mucche masticando la bella erba verde e guardate quella grossa stalla bianca laggiù le sue finestre devono essere fatte di diamanti disse muriel guardate come brillano è solo il sole che brilla sulle finestre che le fa sembrare diamanti dissero le altre mucche masticando felici la loro bella erba verde cerca di essere contenta muriel dissero il fattore di quella fattoria è così ricco che mi darebbe una collana scusate un collare di diamanti disse muriel comunque quell'erba è di sicuro più verde di questa io vado la e così muriel partì tutta sola signori voi che mi state ascoltando in questo momento secondo voi come va a finire questa fiaba ditemelo nei commenti leggo i primi che vedo almeno come andrà a finire questa fiaba questa è la famosa erba del vicino è sempre più verde vediamo cosa succederà alla alberto è no 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 non c'entra vediamo un altro attimo poi ve lo dico io come come finisce la povera muriel vediamo chi è il primo a darmi questa risposta ecco patrizia muriel non sarà felice muriel andrà a stare peggio ma erigine buonasera finisce che non è contenta resta delusa l'apparenza inganna che la mucca va e si salva paolo allora e le altre al macello quella un'altra fiaba allora vi do la risposta vi do la risposta e così muriel partì da sola tutte le altre mucche continuarono a masticare la loro bella erba verde e ad essere contente muriel camminò camminò e camminò continua a camminare camminare e camminare e finalmente raggiunse l'altra fattoria beh l'erba è più verde qui disse muriel è l'erba più verde del mondo vero guardò la grande stalla bianca e le finestre sono fatte di diamanti disse vero il nuovo fattore sua moglie erano molto 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 gentili e molto molto ricchi il fattore strigliava il mantello di muriel ogni giorno la moglie del fattore di edam muriel un collare di diamanti essere scontenti funziona disse muriel mentre masticava l'erba più verde e più succulenta del mondo fine ecco qua allora signori io ho visto tantissimi tantissimi commenti su questa fiaba questa fiaba che serve a introdurre la serata di stasera e tanti sono negativi molto negativi muriel sarà sola muriel sarà macellata muriel sarà scontenta muriel sarà ingannata appunto dall'apparenza inganna come vedo scritta adesso da alberto e muriel non è grata è così qualcuno però ha detto muriel si trova bene muriel si troverà bene qualche settimana fa ho pubblicato un un video dove parlo delle dieci fiabe dieci detti dieci detti italiani 10 usi costumi italiani dove spesso e volentieri si parla comunque di un finale dove dobbiamo lavorare sodo per ottenere tutto dove dobbiamo soffrire se vogliamo raggiungere il paradiso dove dobbiamo stare in qualche maniera molto male per avere del bene quindi il lavoro nobilità per esempio se io non lavoro non sono degno di essere nobile d'animo o di spirito o di levatura quindi è questo e commenti negativi adesso della vostra mucca muriel sono dovuti alle credenze che comunque sono state scritte in anni anni e ancora anni della nostra vita se io desidero l'erba del vicino perché mi devo trovare male ovviamente muriel è una mucca non sta facendo niente di male va solo a brucare dell'erba ma se io voglio di più della mia vita io posso avere di più posso meritarmi di più poi come nella fiaba dice ci sono altre mucche che dicono sì mangiavo erba verde mi andava benissimo quindi se io sto bene con ciò che ho benissimo ma perché dobbiamo frenare chi vuole arrivare più in alto per esempio muriel vuole arrivare più in alto muriel in questo caso non ha paura di tentare un cambiamento di rischiare un cambiamento quindi fondamentalmente il gioco è questo chi sta bene con quello che ha benissimo ben venga chi vuole fare qualcosa di nuovo di diverso chi vuole superare un limite può farlo può farlo e non è detto che il risultato sia sempre solo negativo quindi noi siamo abituati a vedere l'ignoto come negativo perché ce lo hanno insegnato perché ci hanno insegnato ad avere paura di ciò che non conosciamo di ciò che è sconosciuto alla nostra mente di ciò che è sconosciuto a alla nostra abitudine ma non è sempre così ovviamente ciò che non conosco può essere positivo o negativo può essere entrambe le cose perché c'è sempre il margine una cosa può andare bene una cosa può andare male ma perché avere paura della paura stessa quindi io non agisco perché ho paura della mia paura quindi la serata è proprio questa la paura del cambiamento legata comunque alla legge d'attrazione quindi non farò una serata di psicologia ma voglio fare questa serata con la paura del cambiamento legata ai nostri desideri e soprattutto a ciò che si attrae con la legge d'attrazione e quindi ancora benvenuti a tutti ancora buonasera a cristina chissà contenta non gode o gove così così come dice liga v quindi sì non è vero non è che vediamo l'ignoto negativo il cambiamento spesso porta ansia maria pia porta sempre ansia sempre 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 però appunto è questo che dobbiamo un po gestire saper gestire quindi come sempre inizio la mia diretta di questa sera di questo bellissimo 18 luglio 2021 con questo argomento la paura del cambiamento e la legge d'attrazione subito dopo inizierò a rispondere alle vostre domande anzi anzi faccio un salto indietro voglio dare un chiarimento prima ancora prima di iniziare la serata sulla sulla tecnica delle due tazze che ho pubblicato qualche giorno fa se non sbaglio una settimana fa precisamente quindi allora le due tazze c'è stato un problema tecnico dove mi spesso e volentieri mi viene detto tre parole per descrivere il desiderio sono poche allora intanto è un consiglio consiglio tre parole per esprimere il concetto generale del desiderio quindi un consiglio non è un obbligo se uno usa quattro parole cinque parole possono andare bene ugualmente questo è stato detto per evitare la soli solito errore di scrivere 20 parole per un concetto per una frase quello sarebbe troppo sul bigliettino delle due tazze basta scrivere pochissimo allora ci sono due post it 2 post it in uno lo stato attuale quindi lo stato attuale deve essere ovviamente in base al desiderio che voglio avere se io sono per esempio non fidanzato non sposato non insomma in pratica sono in cerca d'amore per esempio il mio stato attuale sarà sono single per esempio questo ovviamente è un esempio ok il desiderio generico sarà voglio trovare l'amore tre parole voglio fidanzarmi voglio sposarmi poi il concetto generico e questo è stato già definito poi si attaccano i post it sui bicchieri e succede questo il desiderio l'emozione che esprimo quando ho il mio bicchiere con l'acqua in mano è quello che scrive l'acqua ok quindi in tre parole si può esprimere tranquillamente qualsiasi concetto di desiderio e di attualità è semplice molto semplice e soprattutto le tre parole sono solo esclusivamente un consiglio un consiglio per usare un numero magico che è il 3 e in più per non stare a confondersi con io voglio fidanzarmi con mario perché mi ha tradita quindi voglio essere felice con lui tutta la vita ecco questo è per evitare di scrivere un post it con 40 parole io voglio fidanzarmi voglio fidanzarmi voglio mario per esempio eventualmente e questa è la prima cosa che volevo dire è l'emozione a scrivere l'acqua quell'emozione che dovrete provare per 2 3 4 5 minuti col bicchiere in mano e questo è quanto poi sempre sulla tecnica delle due tazze su questa pratica che a mio avviso è molto molto valida l'altro dubbio è non mi funziona perché allora non mi funziona perché conoscete la legge d'attrazione se conoscete la legge d'attrazione a un attimo solo non sto leggendo le vostre domande adesso come dicevo quindi non fate domande in quanto non vi sto leggendo comunque claudia merito salute denaro tre parole sono due desideri non è un desiderio solo quindi voglio salute voglio denaro due desideri quindi in altre fai due bicchiere d'acqua magari una giornata comunque ripeto per adesso non vi sto leggendo quindi vi ringrazio della presenza ma non sto dedicando il mio sguardo al ai vostri commenti quindi non riesco a leggerli quando finisco questa presentazione volentieri rispondo a tutte le vostre domande continuando ecco se dopo sette giorni da quando avete fatto il bicchiere d'acqua non è successo niente il come e il quando con la legge d'attrazione non sono calcolabili e soprattutto ho visto tantissime persone che stanno contattando l'ex l'ex marito l'ex fidanzato e quant'altro per tornare insieme benissimo si può facilitare eventualmente con la legge d'attrazione un riavvicinamento ripeto si può facilitare perché comunque a mia esperienza a mio avviso il libero arbitrio funziona e fortunatamente funzionerà sempre qualcuno mi ha detto ma non è giusto che ci sia libero arbitrio ok allora io vi faccio questo vi faccio un mio desiderio di questa sera io voglio che tutti voi vedo siete 238 medio doniate 50 euro sulla paypal ok il vostro libero arbitrio vi darà un freno spero spero per voi per me sarebbe fantastico quindi è la stessa identica cosa il mio desiderio che voi mi doniate dei soldi questo è un desiderio ma voi avete un libero arbitrio potrete scegliere se farlo o non farlo quindi questo è il famoso libero arbitrio e non è la stessa cosa ma io voglio che il mio fidanzato torni da me io voglio che te mi doni 50 euro perché non lo fai è stesso motivo per cui il tuo fidanzato non torna magari perché c'è il libero arbitrio io posso scegliere di fare o non fare una cosa la legge d'attrazione in amore facilita molte situazioni molte sincronicità ma non le può obbligare perché se io non voglio fare un'azione io non la faccio ok quindi questo lo volevo chiarire e non abbiate fretta non abbiate fretta perché la fretta attrae altra fretta la mancanza attrae altra mancanza sarà inutile fare un bicchier d'acqua caricato con un desiderio sperando che sia ovviamente caricato bene e poi magari avere fretta 24 ore al giorno dicendo no ma non perché mo tardi mi doveva già doveva accadere qualcosa ecco quindi questo è già è già un errore un errore molto grave perché comunque state già annullando il desiderio fatto perché create mancanza e la mancanza attrae mancanza come la rabbia tra e rabbia come l'amore attrae amore quindi questo ecco era per fare l'introduzione sull'introduzione scusate adesso resistenze al cambiamento ok resistenza al cambiamento cosa sono vediamo 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 resistenza al cambiamento paura del cambiamento e legge d'attrazione partiamo con qualche esempio pratico partiamo con qualche esempio pratico shiva ti consiglio di guardare il video perché dico anche quello ecco un'altra cosa che voglio dire mi sto già interrompendo sul sull'argomento della serata leggete tra i commenti ascoltate bene i video e le introduzioni dei video perché comunque c'è scritto sempre tutto poi i commenti per esempio come chiedere dell'amore come chiedere dell'amore per esempio in tre parole l'ho già scritto 10 20 volte già nei commenti per esempio quindi controllate sempre i commenti dei video se avete un pochino di tempo ovviamente poi ascoltate bene ciò che dico nel video perché per esempio per rispondere a shiva mi può dire dove mettere i bigliettini grazie intorno ai cinque minuti dico precisamente cosa fare dei bigliettini mi ricordo cinque minuti perché ho già risposto anche a questa domanda dove dico che i bigliettini possono essere potete fare ciò che volete con i bigliettini quindi ciò che volete vuol dire buttarli tenerli bruciarli qualsiasi cosa e questo è quanto allora ricominciamo dai paura del cambiamento legge d'attrazione legge d'attrazione e paura del cambiamento io voglio diventare ultra mega miliardario ok quindi faccio i miei mantra faccio la mia crescita personale ascolto anche qualche subliminale benissimo aspetto un anno aspetto due anni e questi mega miliardi non arrivano tutto ma non sento la mancanza non sento quello non sento quell'altro ma forse non sono stato completamente onesto con me stesso io ho detto che tutto è legge d'attrazione non l'ho detto io lo dico anche io scusate ho fatto ho detto una parola magari di troppo però se io ho una paura non attraggo ciò che voglio attraggo la paura anche perché tutto è legge d'attrazione se io voglio diventare miliardario e la base mai miliardari mi fanno schifo per esempio io non voglio fare schifo quindi non posso diventare miliardario anche se faccio il mantra per diventare miliardario io voglio diventare ricco ma ho paura che tutte le angel non sto non leggo adesso i vostri commenti per le domande aspettate dopo per favore non 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 ho adesso non vi sto leggendo ecco quindi voglio diventare ricco o desidero diventare ricco o io sono già ricco e cosa succede ho paura che le persone accanto a me si approfittino della mia ricchezza ho paura di dover dare soldi ai miei genitori ai miei figli a agli amici degli amici dei miei figli e quant'altro quindi è un'altra paura ho paura di vivere un'altra vita di trasformarmi in una persona più cattiva più arrogante ho paura di cambiare casa perché abito in un appartamento e se vinco un miliardo dovrò comprare una villa e ho paura di non lo so del bosco tutto intorno per esempio queste sono già piccole e grandi paure di un cambiamento quindi perché non divento ricco nonostante faccio e mantra faccio e mantra faccio e mantra io attrago ricchezza e trago ricchezza ma abbiamo nei nostri valori nel nostro subconscio perché poi tutta roba messa la nel nostro nella nostra parte profonda della mente che ci dice sì ma se fai questo ti potrebbe succedere questo e questo è una cosa invalidante molto invalidante la paura invalida anche la legge d'attrazione facciamo anche l'esempio con l'amore voglio tornare con il mio ex per esempio voglio tornare con la mia ex sono un maschio fatemi parlare per le donne voglio tornare con la mia ex bene quindi faccio e mantra per tornare con la mia ex facciamo finta che l'ex sia un oggetto quindi che libero arbitrio non ci sia in questo caso quindi voglio tornare con la mia ex lei è un oggetto perché non esiste il libero arbitrio per le persone ovviamente uno scherzo leggete le virgolette che ho messo sopra le mie parole e faccio di tutto per attrarla a me mantra sull'amore meditazione sull'amore la visualizzo mentre siamo insieme innamorati e magari ho paura che mi tradisca nuovamente magari ho paura ad andare a convivere magari ho paura di avere figli con lei magari ho paura di trovare la stessa persona che ho lasciato o magari ho paura che io sia la stessa persona di quando ci siamo lasciati e anche tutte queste paure tutte queste resistenze inibiscono la legge d'attrazione su dove vogliamo andare nella direzione che vogliamo andare quindi un pochino anche questo la paura del cambiamento poi è normale diciamo questi sono esempi di legge d'attrazione esempi banali molto banali c'è da dire una cosa anche molto importante molto molto importante ogni tanto butto un occhio e mi venda a sorridere siete fantastici siete tutti veramente fantastici io vi adoro dal primo all'ultimo ecco continuando c'è da dire una cosa essenziale del di tutti gli esseri viventi tutti gli esseri viventi vivono il cambiamento è impensabile pensare che una persona impensabile pensare sto peggiorando anche nel parlare è impensabile dire che una persona o una situazione non cambia l'essere umano per esempio nasce è un bambino cresce diventa adulto e invecchia questi sono cambiamenti sono cambiamenti anche molto interessanti quindi noi viviamo il cambiamento è una costante nella nostra vita io non sono la persona che ero ieri le mie cellule sono cambiate quindi le mie cellule cambiano i miei pensieri cambiano di conseguenza le mie attrazioni possono cambiare quindi il cambiamento è già parte di noi poi c'è un altro principio della biologia e comunque dice che un organismo vivente quindi anche l'uomo una pianta l'uomo un animale quando raggiunge un equilibrio tende a mantenerlo quindi se io per esempio ora parliamo invece che di fisicità di chimica nostra parliamo di un lavoro per esempio se io ho un lavoro e faccio questo lavoro da due anni tre anni il principio di omeostasi mi farà mantenere quell'equilibrio ovvero io quel lavoro lo voglio mantenere lo voglio ottenere anche se spesso sono equilibri non troppo sani magari un lavoraccio per esempio però uno in due anni si abitua un po e quando gli viene offerto un nuovo lavoro cosa succede resistenza al cambiamento paura del cambiamento dove dice sì il lavoro che lo conosco molto bene se lavoro lo conosco molto bene perché cambiare quindi paura del cambiamento potrei andare a stare peggio come succedeva per la mucca muriel che molti di voi hanno detto andrà a stare peggio è tutta un'illusione per esempio ma non è detto quindi anche questo ho un lavoro da due anni che non mi piace più di tanto ma mi abituo quindi per il principio che si chiama omeostasi tendo a mantenere questo equilibrio ho un rapporto con mio marito con mia moglie non troppo sano principio di omeostasi preferisco mantenere questo rapporto non troppo sano che rischiare un cambiamento la famosa zona di comfort se vi ricordate bene la zona di comfort che comunque ci dà comfort se no non si chiamerebbe così e se ci dà comfort se mi dà comfort una cosa perché cambiarla perché cambiarla per il principio appunto che noi facciamo parte già di un cambiamento le mie cellule cambiano io invecchio io sto cambiando in questo momento voi state cambiando in questo momento e se tutto è cambiamento perché allora bloccarsi su cose potenzialmente equilibrate a forza cose magari non troppo sane è questo e qui subentrano persone come me che utilizzano stratagemmi suggestioni distrazioni per fare una sorta di cambiamento terapeutico ok lo ripeto l'ultima volta veramente non sto leggendo i vostri commenti ora ho visto due tre punti interrogativi così quindi per le domande aspettate che io finisca questa spiegazione a voi vi piace essere interrotti mentre parlate io credo di no è più o meno la stessa cosa anche se siamo in chat più o meno la stessa cosa quindi aspettate che io finisca questo argomento poi vi darò il via libera ai commenti e cercherò di leggere nel più possibili davvero grazie quindi in quanto organismi viventi tutti noi viviamo un cambiamento costantemente costantemente nasciamo cresciamo invecchiamo e poi si muore anche addirittura però tanto è il cambiamento una costante quanto è una costante anche la resistenza al cambiamento la paura del cambiamento tutto diventa una costante quindi l'ignoto ha sempre spaventato però ci sono quei cambiamenti che vanno fatti che si devono fare è un principio comunque evolutivo di sopravvivenza se ci pensate bene basti vedere alle guerre del passato chi combatteva con i fucili contro le armi e le armi e le frecce i fucili erano molto più evoluti rispetto all'arco e la freccia quindi l'evoluzione anche in quel caso ha portato alla vincita di alcune guerre è tutto così l'evoluzione fa parte integrante della nostra vita serve alla nostra sopravvivenza facendo un esempio banale negli ultimi dieci anni un buon 50 per cento del lavoro mondiale mondiale si è spostato nell'online online internet ci sono centinaia di modi diversi di lavori online di possibilità di lavoro online e questa un'evoluzione chi rimane legato alle proprie credenze di 50 anni fa verrà sopraffatto piano piano o è già stato sopraffatto chi non allega nel proprio negozio nella propria boutique una vendita anche al dettaglio online perde un 50 per cento della popolazione mondiale perde dei ricavi perde dei soldi veri per esempio e questa è un cambiamento questo è un equilibrio un riequilibrio perché comunque la direzione mondiale sta andando lì sì è bello essere controcorrente sì è bello essere tante cose ma ci sono dei cambiamenti evolutivi che vanno comunque accettati accettati e vissuti perché li stiamo vivendo tutti voi che stasera siete connessi con me avete minimamente un cellulare uno smartphone oppure un pc oppure una smart tv addirittura e questa è l'evoluzione perché qualcuno una volta mi disse sì ma nel mio negozio io l'online non ce lo metterò mai sì ma mi stai parlando tramite uno smartphone che costa altrettutto mille euro quindi o ti tieni il 33 30 della nokia di 20 anni fa altrimenti se è uno smartphone ti stai già evolvendo stai già cambiando qualcosa quindi continuiamo questo cambiamento come come si affronta il cambiamento il cambiamento si affronta dipende intanto che cambiamento sarebbe ridicolo dire come si affronta il cambiamento abc seguite il manuale dal punto 1 al punto 3 e sarete tutti felici e cambiati questo sarebbe sarebbe una cosa forse bella forse brutta non lo so ma sicuramente non è una cosa reale questo no poi ci sono quei cambiamenti appunto che si vogliono io desidero un cambiamento io voglio essere per esempio innamorato io voglio essere innamorato io voglio essere ricco io voglio più salute questi sono cambiamenti che si magari ci fanno paura ma che vogliamo noi e poi ci sono i cambiamenti non voluti quelli che ci quelli che ci accadono quelli che arrivano quelle quelle esperienze non desiderate quindi che magari non ci piacciono e quelle come si fa a vivere si possono vivere da da vittima sono la vittima degli eventi l'ho sentito dire un sacco di volte anche al telegiornale ho subito questa cosa però per smettere di subire questa cosa perché poi vuol dire che comunque la situazione è cambiata e noi la subiamo quindi noi non vogliamo cambiare alla situazione ma se io non posso fare niente allora tanto vale accettare la situazione certo se posso agire ovvio che agisco voglio se devo combattere combatto con le unghie e con i denti come si suol dire ma se io ho subito un cambiamento se è qualcosa di non desiderato se questo cambiamento non è desiderato cosa fare per accettarlo alla fine esserne consapevoli e accettarlo con ogni nostra cellula non è facile non è è un pochino come il perdono non è facile però uno può vivere nell'impotenza e quindi uno più vive nell'impotenza più si abitua all'impotenza e quella diventerà la sua zona di comfort e le sue attrazioni addirittura oppure puoi accettare la situazione anche se non mi piace però l'accetto e posso continuare a vivere la mia vita e i miei cambiamenti su quello che desidero poi il cambiamento necessita di un tempo non è che una persona cambia una situazione in un minuto e e già si adatta la zona di comfort va riformata va ricreata ma si può ricreare con il tempo basta accettare questo cambiamento desiderato o non desiderato che sia allora come vivere un cambiamento come vivere un cambiamento con la legge d'attrazione io parlo sempre di legge d'attrazione mi raccomando non non mettete in cose che non dico ecco legge d'attrazione e cambiamento allora sicuramente bisogna trovare una bella direzione un obiettivo qual è il tuo obiettivo voglio diventare più ricco per esempio voglio trovare l'amore voglio essere una persona migliore anche questo è un obiettivo voglio smettere di arrabbiarmi voglio avere più salute bene ho trovato la mia direzione quindi deve essere una cosa chiara lucente più del sole l'obiettivo la direzione va definita in maniera chiara molto chiara poi come seconda cosa cosa fai attivamente per raggiungere questo obiettivo attivamente attivamente vuol dire fisicamente anche perché spesso ci fermiamo a pensare ai pro e ai contro ma non si fa niente ci fermiamo come dicevo all'inizio ad aver paura della paura paura della paura ovvero penso a ciò che di negativo mi può accadere vedo lo stesso un sacco di punti interrogativi quindi paura della paura se io non agisco continuo e avrò soltanto la paura della mia paura e quindi il cambiamento se è voluto non avverrà mai mai e poi mai se non è voluto non è desiderato questo cambiamento arriverà ma io continuerò a avere solo paura perché non potrò agire in niente non farò niente quindi essere comunque fare azioni ecco fare azioni attivamente cosa ho fatto per raggiungere il mio obiettivo ecco qualcuno mi ha detto ma io ho fatto un mantra 30 giorni ma ricco non sono ancora è sì ok può andare che ti capiti qualcosa di bellissimo vinci non lo so qualcosa di inaspettato ti danno un rimborso dell'enel di 500 mila euro ti mandano ti casca una valigia piena di soldi sotto casa ecco questo può può accadere certo ma attivamente cosa è fatto per il cambiamento ho pubblicato un paio di video video come diventare i belli ricchi e qualcos'altro adesso non ricordo il titolo preciso dove dico di agire per esempio sulla ricchezza ok ho fatto il mantra adesso mi comporto da ricco quindi agisco come un ricco entro nelle boutique vado a vedere vestiti costosi vado a fare test drive delle macchine di lusso vivo la vita come se fossi già ricco però è una cosa attiva vivi qualcosa di pratico fai un'esperienza perché l'esperienza non è solo mentale ma è anche fisica se non fai un'esperienza non fai niente quindi cosa fate attivamente per raggiungere il vostro obiettivo la direzione benissimo poi altra cosa semplice bella chiara il bicchiere d'acqua questo l'ho vista ognuno vive la vita col suo punto di vista è vero bellissimo quindi ne parlo dopo ne parlo dopo perché è un bellissimo discorso anche quello altra cosa essere onesti con noi stessi come facciamo essere sinceri con noi stessi avendo un sano dialogo interiore e con le altre persone vengono in studio da me persone che mi dicono io sono venuto da te perché voglio raggiungere i miei obiettivi vabbè dimmi quali sono i tuoi obiettivi si parla magari per un'ora e questi obiettivi sono 500 caotici ci si capisce poco veramente tutti quanti perché poi è così alla fine e realmente non esiste una direzione non esiste un obiettivo c'è tanta e solo confusione per poi non parlare delle paure che possono venire fuori quindi è meglio dire non so qual è il mio obiettivo quasi non so qual è la mia direzione aiutami a trovarne una che dire so qual è il mio obiettivo e essere ancora più confusionari avere confusione in mente quindi essere sinceri essere sinceri con noi stessi essere sinceri sulle paure che ho ok voglio io rimango con l'esempio di allora sorrivo e bevo un bicchier d'acqua scusate un secondo ok essere sinceri con noi stessi voglio diventare ricco quali paure ho quali paure ho che mi contrastano la mia direzione verso la ricchezza quale paure possono sabotare la legge d'attrazione verso la ricchezza questa è la domanda da farsi ma del resto per qualsiasi altro desiderio anche per esempio sulla salute ho un problema per esempio non lo so a un piede voglio guarire voglio guarire ok cosa hai fatto fatto anche un mantra bene può essere una cosa ottima anche quella sicuramente ma perché non riesco a guarire perché spesso e volentieri ci sono anche delle malattie che ci portiamo avanti per anni 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 e non vengono passate non vengono sorpassate perché non siamo sinceri con noi stessi c'era quel racconto di che ho pubblicato qualche settimana fa di della clinica dei bambini con problemi quelli con i genitori non guarivano quelli senza i genitori guarivano quelli con i genitori non guarivano perché avevano visto che essendo malati i genitori li viziavano li coccolavano quindi la paura che contrastava la guarigione era ma se io guarisco magari mio padre non mi vizia più magari non riceverò più tutte quelle attenzione che adesso mi fanno piacere questa è una paura vera sono paure reali anche stessa cosa per l'amore come dicevo prima essere sinceri con se stessi voglio tornare con il mio con la mia ex ok sono sincero con me stesso quali sono le paure che impediscono che accada questo ho paura che lei si ricomporti come si è comportata l'ultima volta ho paura che lei mi ritradisca ho paura che la situazione non cambi ho paura di ricadere nelle miei errori ecco quindi essere sinceri già fa chiarezza se siamo sinceri e abbiamo chiare le nostre paure le possiamo tranquillamente sconfiggere le possiamo tranquillamente gestire perché io smetterò di avere paura della paura visto che la conosco perché se io ho paura di comportarmi nuovamente male posso cambiare quindi rendo palese la mia paura di comportarmi male se io ho paura che lei si ricomporti nuovamente male perché rimettermi ci insieme eventualmente posso anche rielaborare nuovamente la mia richiesta il mio desiderio lo vedo da altre angolazioni quante persone si lasciano si rimettono insieme poi si rilasciano per gli stessi 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 errori ne vedo tantissimi io quindi essere chiari e avere un sano dialogo con noi stessi ci fa vedere anche le nostre paure le dell'ignoto e ce le fa affrontare rimanendo anche sulla mucca muriel nel suo caso non dice di aver paura dell'ignoto però comunque sia anche se avesse avuto paura dell'ignoto poteva magari tornare indietro poteva affrontare la novità e vedere come andava a finire ma non si è fermata per paura che magari il domani che l'erba del vicino non fosse più verde quello sarebbe stato il grande l'unico vero errore perché se muriel si fosse fermata dicendo sì ma se l'erba del vicino allora non fosse veramente verde allora non parto neanche quella rimane paura invalidante addirittura e magari vivi tutta la vita con il senso di colpa con il rimorso di non aver fatto con con tante altre cose quindi anche peggio spesso il non agire per paura eventualmente se ci sono paure tangibili e vere verifichiamole prima di fare un'azione magari sconsiderata ma se la paura rimane solo nella nostra testa vediamo di gestire la paura è questa quindi trovare un bell'obiettivo essere chiari quindi per l'obiettivo con noi stessi con quello che vogliamo veramente legge d'attrazione e essere sinceri con un sano dialogo verso noi stessi e verso gli altri anche delle nostre paure più chiari possibili delle nostre paure quando la paura la porta alla luce del sole la paura diventa più piccola quando parlo di una mia paura a un terapeuta si trovano soluzione a questa paura è quello il gioco poi cosa fare attivamente per contrastare la paura per andare verso il nostro obiettivo spesso e volentieri mi è capitato di vedere persone che pensano troppo pensano pensano rimugiano rimugiano e non agiscono mai non agiscono mai ne è pieno il web lo vediamo quotidianamente chi giudica molto sul web spesso e volentieri non ha mai agito in vita propria o agito talmente poco che ha tanto tempo libero per criticare gli altri che provano a fare qualcosa il web ne è pieno ma ne sono pieni bar in generale di queste persone quindi il cambiamento fa sempre paura il cambiamento fa sempre paura sentite bene queste parole non ho mai detto che il cambiamento non fa a volte fa paura a volte no il cambiamento fa sempre paura in quanto ci toglie dalla nostra zona di comfort quindi però se è un cambiamento voluto l'importante è avere quella giusta direzione quella giusta chiarezza mentale verificare le nostre paure vederle bene imparare a gestire le nostre paure e agire di conseguenza non ci sono modi magici per muoversi le paure si possono affrontare a me è capitato una volta un ragazzo a cui io feci una confidenza gli dissi guarda ho una paura matta dell'aereo gli dissi dell'aeroplano questo tanti anni fa e lui mi disse sì anch'io infatti prendo solo il traghetto ok la differenza sta lì prende il traghetto se fai una traversata per lavoro come faccio io spesso e volentieri prendere un traghetto che ti comporta di perdere una giornata intera anziché prendere un aereo che in un'ora risolvi veramente tutto ti cambia veramente la vita come fare a sconfiggere appunto la paura di questo tipo di cambiamento affrontandolo verificando perché ho paura di volare perché forse ho paura di morire no magari non ho neanche paura di morire perché forse ho paura di soffrire può essere quello o perché forse ho paura solo della paura perché fondamentalmente ci sono miliardi di persone che volano ogni giorno in tutto il mondo e volano lo stesso quindi forse la tua è una paura infondata forse non dico che non sia vera la paura esiste c'è però puoi fare qualcosa per affrontare questa paura magari puoi fare una traversata breve come ho fatto io decine di volte roma firenze mezz'ora di volo mi sembra 25 minuti di volo una cosa così cioè fare piccoli passi per superare la paura magari la prima volta ci vado con un tranquillante o magari ci vado con un mantra del luogo sicuro messo da dna health per esempio che dura 10 minuti quindi in 10 minuti già il decollo è avvenuto la rimetto altri 10 minuti e sono già a terra quindi uno può anche trovare delle soluzioni a queste paure delle soluzioni più o meno anche ingannevoli ci mancherebbe perché comunque servono degli stratagemmi per superare le paure del cambiamento questi stratagemmi sono usati da secoli secoli e secoli ci sono suggestioni suggestioni di massa distrazioni ti distraggo da una parte per non farti vedere un'altra cosa lo viviamo tuttora quindi ci vuole semplicemente una sana consapevolezza consapevolezza delle nostre paure e trovare uno stratagemma che ci aiuti a passarle può essere una distrazione benissimo può essere una suggestione ancora meglio nel caso dell'aereo di questo ragazzo che aveva paura può essere un farmaco che per una volta lo prendi e vedi che poi non succede niente di così pauroso ecco è un po e questo detto questo allora visto non voglio continuare troppo perché poi non riesco a rispondere alle vostre domande paura del cambiamento facendo un piccolo riepilogo tutti si cambia tutti cambiamo costantemente cresciamo nasciamo viviamo ogni minuto della nostra vita qualche cellula vive qualche cellula rinasce qualche cellula muore tutto è cambiamento l'essere umano in particolare a questi queste zone di comfort molto radicate e queste zone di comfort formano spesso e volentieri degli equilibri che inizialmente potevano essere anche sani del tipo ho bisogno di lavorare ho bisogno di lavorare trovo un lavoro benissimo questo lavoro mi fa schifo questo lavoro è terribile questo lavoro mi massacra questo lavoro quindi l'equilibrio diventa poi insano ma siamo legati alla paura di cambiare nuovamente la paura magari di non ritrovare un lavoro la paura anche se ci viene offerto un nuovo lavoro che non sia come ci aspettiamo noi quindi tutto è cambiamento e questa cosa va accettata nella vita una fiaba per ogni notte l'ho appena detto lo sto dicendo accettando che tutto è cambiamento è proprio questo quindi paura del cambiamento si vive il cambiamento accorgendosi quali sono le nostre paure reali perché avere paura della paura non esiste ci tiene immobili ci tiene fermi bloccati nella paura solo della paura non del cambiamento perché noi come esseri umani come esseri esistenti come esseri viventi noi già cambiamo anche se quando raggiungiamo un equilibrio tendiamo a mantenerlo per il principio di omeostasi noi chiamiamo zona di comfort però è il principio di omeostasi quindi semplicemente con delle suggestioni con degli stratagemmi le suggestioni posso dire anche i mantra le affermazioni i subliminali queste cose qua e queste sono suggestioni anche l'ipnosi per esempio delle distrazioni degli escamotage mio amico che prende il farmaco comunque conoscendo la nostra paura la possiamo tranquillamente affrontare perché la paura c'è e ci deve essere quando c'è un cambiamento perché la paura ci rende comunque il principio adattivo della paura ci rende più forti ci rende più attenti principio adattivo principio disadattivo quando ci immobilizza senza fare niente quindi un sano dialogo interiore di cosa ho paura bene questa paura perché mi invalida come posso sconfiggere la paura ok facendo azioni attive per sconfiggere la paura ho paura di salire su un aereo che però un cambiamento salgo su un aereo piccolo grande faccio una tratta piccola faccio una tratta breve ho paura di cambiare lavoro fai i tuoi pro e contro valuta quali sono le paure reali e quali sono le paure solo nella mente e le paure reali si possono tutte affrontare dalla prima all'ultima si scrivono gli obiettivi che devono essere chiari si fa un bel dialogo interiore sincero con noi stessi perché comunque nella coerenza la legge d'attrazione funziona sempre però come dicevo non mi riesce tornare con il mio ex lo leggo centinaia di volte al giorno ok e quali sono anche le tue paure facciamo finta che non esista il libero arbitrio che lui mi ritradisca ecco se hai paura che lui ti tradisca perché vuoi tornare con il tuo ex quindi la legge d'attrazione che è più furba di noi non ti ci fa rimettere col tuo ex e se ti ci fa rimettere lui ti tradirà perché quella è la tua paura è per questo ok dai voglio visto che sono quasi le 10 rispondere un pochino ai vostri messaggi da adesso in poi leggerò i vostri messaggi quelli che avete scritto fino ad adesso non li considero ok quindi ve lo dico subito quello che avete scritto fino adesso non lo considero via via adesso sono a vostra disposizione con molto molto piacere ho paura di una risonanza magnetica sono claustrofobica come posso fare roberta rispondere così velocemente bisogna vedere da dove deriva la tua claustrofobia quali sono le tue paure perché se claustrofobica quindi dovresti fare azioni per rimuovere la tua claustrofobia rivolgiti a un psicoterapeuta un ipnologo anch'io lavoro sulle fobie fare un'azione per rimuovere la tua claustrofobia allora maria rosaria di rocca buonasera diana un paio di domande se è possibile se è possibile si può scrivere riguarda la tecnica del bicchiere d'acqua io voglio x nome della persona desiderata e come frase troppo generica maria rosaria l'ho detto all'inizio ti consiglio di di riguardare questa diretta all'inizio perché lo ridicoli comunque la frase deve essere generica deve essere generica sono le tue emozioni a scrivere l'acqua allora io la paura del cambiamento spesse volte l'affronto ricarica nel fallimento opposto che non prendo confidenza la nostra cerca di vincere paolo è una buona tecnica è una buona tecnica bravissimo allora barbara casagrande cosa scrive nei biglietti per superare un esame universitario un po tosto supero l'esame universitario semplice perché non è quello che si scrive visto che una cosa generica ma è quello che si desidera quello che si scrive l'acqua con l'emozione poi allora vediamo vediamo joelena per la seconda dose vorrei non avere nessun effetto collaterale stare bene che video tu può consigliarmi non avere effetti collaterali è un video proprio del canale delle ultime settimane o mesi comunque non avere effetti collaterali poi paolo come come si possono guarire le ferite emotive del passato grazie lavorandoci su ora non posso risponderti approfonditamente però le ferite emotive si lavorano con il perdono e con la gratitudine quindi ci sono poi molti modi per lavorare il perdono non biblico e sia chiaro non c'entra niente quindi rielaborare il passato con un'altra visione per naturalizzarlo però è una risposta che necessiterebbe di di ore di di conversazione però passa perdone gratitudine a termini brevi a parole molto facile a parole è facilissimo una fiaga per ogni notte come a parole facilissimo dire del perdono come a parole facilissimo vivere ma poi vivere è tutt'altro che facile però chi non agisce chi non si attiva chi non fa niente sicuramente non risolve io posso provare e fallire ma almeno provo quindi è quello che consiglio a tutti provare sempre allora carissimo levo che tu il concetto dei desideri non voluti che si manifestano maria pia rinaldi allora questo è un concetto che ho spiegato tantissime volte ti consiglio di andare a vedere una mia diretta non ricordo la data ma si vede un iceberg in copertina dove dico della mente conscia e la mente subconscia quindi ti consiglio di andare a vedere quella diretta li ne parlo per un'ora e mezzo circa è molto interessante a mio avviso io sono stremata ho lottato per una vita non ho veramente più forze antonella se lotti continuerà a lottare tutta la vita purtroppo è proprio questo il fatto se si accetta noi stessi i nostri pregi e difetti e quelli del mondo si smette di lottare chi lotta nella sua credenza sei una lottatrice la legge d'attrazione ti porterà a te solo e sempre altre situazioni per cui lottare so che una risposta molto brutta e crudele ma è così spesso e chi non accetta e non si accetta continua a lottare allora ora sto andando per ordine sono un po lento ma non ho chi mi filtra i messaggi quindi perdonate se salto qualcosa come esce mio figlio se mi sta con istrani 16 anni dalla paura di vincere a tornei prima viveva sempre da un pochino credo che sia si stato sabotando e dovrei parlare con tuo figlio io dare un consiglio per una persona che non è presente che non è riportabile questo tipo di dovrei parlare con una persona che mi dice guarda ho paura di questo questo e quest'altro non faccio questo questo e quest'altro ho paura perché non puoi essere onesta per lui ecco lui avrà le sue paure non ti posso dare questa risposta mi dispiace le paure sono legate all'autostima grazie per la diretta news tefi le paure spesso allora le paure ci sono ci saranno sempre come dicevo prima sul cambiamento quando si esce o comunque quando si allarga la nostra zona di comfort c'è sempre un po di paura ovviamente se la mia autostima mi porta a essere sicuro di me stesso delle mie azioni delle mie idee avrò meno paura e la saprò gestire molto meglio ma infatti le persone spesso che non agiscono che hanno molta paura hanno scarsa autostima è quasi matematica anche perché per cose piccole anche arrivano le paure non solo per le cose grandi e l'autostima comunque il motore della nostra vita è come mi affronto con me stesso come affronto la vita in generale come vivo la vita l'autostima quindi sì le paure sono molto legate manifestare una persona e come utilizzare l'attrazione maria questa domanda ti consiglio di guardare un pochino approfonditamente il mio canale manifestare è legge d'attrazione quindi sì assolutamente sì poi la legge d'attrazione è sempre attiva non è che te la utilizzi non la utilizzi la utilizzi sempre 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 i tuoi pensieri creano le tue manifestazioni quindi se manifesta una persona è un'attrazione certo poi non ho paure e amo il denaro non invidio i ricchi e non voglio essere una loro copia sto facendo mantra ma quanto tempo ancora l'ora simonetta il come quando con la legge d'attrazione si sa non sono di nostra competenza quindi non saprei dire come non so dirti da quanto è che fa il mantra come non so dire quali sono le tue abitudini quindi come dicevo prima fare un mantra magari e rimanere immobili senza fare azioni dedicate spesso e volentieri rimane un'esperienza a metà anzi non è definibile esperienza ciò che non è attivato buonasera sabina buonasera buonasera ieri avevo paura di uscire da sola e sono uscita lo stesso ma oggi di nuovo paura perché devo insistere uscire con qualcuno che mi sta a genio uscite con qualcuno che non mi sta a genio vittoria allora le paure non si sconfiggono certo con una uscita sola per esempio cioè se io salgo su un aereo una volta sola non sconfiggo la paura di volare ma se salgo un aereo 4 5 6 volte l'anno presto la paura se ne va quindi se hai paura di uscire una sola volta non non passi sicuramente la paura lo devi rifare quello è la base comunque di come si scrivono anche le credenze e poi non capisco cosa c'entri uscire con qualcuno che non mi sta a genio quello scegli te con chi uscire ecco io non non ti so aiutare antonella ti ringrazio ascoltare la tua voce mi dà sicurezza grazie a te grazie grazie a te io non ho paura di nulla sono molto coraggiosa ma ho paura di me stessa e allora direi che hai paura di tutto perché paura di te stessa e noi siamo il motore di tutto il resto quindi di mollare di scendere dal piedistallo che mi sono creata e non vivo comunque bene e ci credo se ha paura di te stessa cioè noi dobbiamo essere la nostra forza i nostri migliori amici i nostri migliori compagni di vita e questa si chiama spesso e volentieri autostima anche quindi aver paura di noi stessi è la più grande paura che una persona possa avere perché il mondo esterno fondamentalmente basta non guardarlo per non averne paura quindi lavora lavora meri sulla tua autostima sul tuo amor proprio e vedrai che le paure piano piano svaniranno buonasera lo dico davanti a tutti perché la soluzione non arriva florentina sdeo florentina la soluzione non arriva certo assolutamente non arriva ne abbiamo già parlato tante volte anche in privato bisogna lavorare su noi stessi per far sì di cambiare il nostro mondo e di conseguenza alle nostre attrazioni come mi hai confidato se molte volte sono stati tanti errori accumulati nella vita a creare anche una situazione quindi è per quello allora vediamo continuo ora sto vedendo vado in fondo perché non riesco a seguire tutti i commenti grazie isabella allora davvero rimasto mirko buonasera hai bisogno di una moderatrice ti offri volontaria avrei bisogno veramente moderatrice sia ragione allora vediamo se riesco ti ci aggiungo subito blocca segnala rimuove utente nasconde aggiungi moderatore fiore di loto se è ufficialmente una mia moderatrice ok vediamo 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 allora io ho paura dell'ignoto e paura del cambiamento comunque non voglio essere prigioniere delle mie paure a questo punto metto in atto il qui e ora devo dire che la maggior parte delle volte funziona aurelia bravissima chi vive nel qui e ora non ha tempo di avere paura per l'ignoto del domani perché sta agendo nel presente quindi la tua è una tecnica fantastica bravissima aurelia perché noto che gli uomini non fanno molte domande non lo so massimo non lo so perché sono uomini e non devono chiedere mai come diceva una pubblicità scusi vorrei vendere bene il mio appartamento cosa mi consiglia di visualizzare grazie dina o un video su come vendere acquistare casa quindi consiglio di vedere quello io non ho paura di cambiare perché sono arrivato a un punto che voglio farlo perché devo e sono pronta benissima laura mi fa molto piacere allora auto convincersi che tutto quello che si desidera si possa avverare solo un illusorio e ti fa perdere tempo prezioso nella vita e non si può distorcere la realtà credere che quello è quello che ti succede lo scegli patti questa è una tua credenza io l'accetto in quanto è tua non è mia però allora mi chiedo cosa ci fai su un canale a perdere tempo che parla di legge d'attrazione quindi delle persone che scegliono il proprio destino e oltre a sceglierselo se lo attraggono anche quindi se hai questa credenza io ti consiglio vivamente di abbandonare il canale ecco di di non perdere tempo che comunque ricordati patti che il tempo è prezioso la vita non torna indietro quindi ogni minuto del tuo tempo dedicalo a ciò che ti piace e questo è il mio consiglio per te secondo me lottare perché ci facciamo comandare dalle emozioni materiali accettare più che lottare poi la lotta si può avvenire però deve essere non un'abitudine perché se no si lotta tutta la vita ho paura di rischiare l'abbiamo detto allora sciva grazie isabella affronto la paura con le preghiere chiedo aiuta agli angeli e ti dico loro sento la loro presenza anche questo è un ottimo stratagemma quindi bravissima io vorrei cambiare lavoro come faccio a trarre un buon lavoro milena ho un paio di video che parlano esclusivamente di come attrarre lavoro quindi ti consiglio di andarla a vedere allora vediamo prego ecco qua allora tati buonasera come si sconfigge la paura di aver paura agendo agendo nella direzione facendo azioni non stare a pensare solo alla paura ma come dicevo prima essere molto chiari e sinceri con noi stessi definire bene in maniera chiara e pulita alla luce del sole quali sono le nostre paure e accorge accorgersi che spesso e volentieri le paure non esistono sono banali sono finte e quindi agire agire di conseguenza allora monica un email dove scriverti di anni da per consigli allora la mia mail si trova per esempio sotto l'ultimo video o sotto questo video quindi trovi tutti i miei contatti anche sotto questa diretta allora perché non mi capitano mai belle persone che mi piacciono a me sulle mie stesse relazioni invece mi capitano sempre fabio dipende se te hai paura di trovare sempre quelle persone lì continuerà ad attraerli a te comunque le persone si possono sempre scegliere si possono sempre selezionare quindi se comunque stai attraendo quel tipo di persona chiedi a te stesso il perché chi sono quelle persone che stai attraendo e perché le stai attraendo e vedrà che la risposta arriva perché fondamentalmente si attrae sempre ciò che si chiede in qualche maniera quindi inconsciamente inconsapevolmente o ne hai paura o non so comunque ci porti attenzione a quel tipo di persona e quindi le attrae scegli chi vuoi attrarre porta l'attenzione su chi vuoi attrarre e vedrai che le attrae poi posso creare affermazioni quotidiane da ripetere ascoltare inserendo una frase non so se l'ha già letto prima che mi collegasse nel caso non esco tra maria rosaria certo puoi creare ciò che vuoi alla cia come si fa a focalizzarsi su un obiettivo senza farsi prendere dalle paure focalizzandosi sull' obiettivo appunto nel senso se io voglio diventare per esempio ricco per avere una vita agiata migliore benessere ricca d'abbondanza e piena di felicità salute e quant'altro mi focalizzo sul risultato sulla fine del mio obiettivo poi le paure ci sono ci saranno sempre si devono vedere perché ci sono e annullare e gestire con azioni anche quindi tutto sta in base comunque alla tua abitudine alla sua autostima come diceva prima l'utente quindi è quello se te è un obiettivo forte la paura in sé non mi può bloccare se l'obiettivo è vero chiaro e forte se c'è una paura che ti blocca che ti inibisce vuol dire che forse o l'obiettivo non è così forte o che non sai bene qual è l'obiettivo o che non hai presente le tue paure o comunque che la tua abitudine mentale sia di lasciarsi andare alla paura quindi devi fare comunque un percorso di crescita quindi percorsi di crescita è ovvio servono sempre poi vediamo sciva non posso rispondere a questa domanda mi dispiace come si può sconfiggere la paura ci sono centinaia di metodi servono stratagemmi trova i tuoi ecco e bisogna vedere cosa devi sconfiggere dire paura è come dire vita tutto tutto e niente alla fine perseverare grazie 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 a te allora vediamo vita la paura si vince con il coraggio certo certo comunque il coraggio è sconfiggere la paura quindi è la stessa identica cosa bravissimo vita allora agnese si benissimo allora mi sta piacendo tantissimo questa diretta parlare delle nostre paure già il parlare joelena delle paure le aiuta a portare in luce allora vi faccio l'esempio che io faccio spesso e volentieri i miei clienti la paura si affronta il bambino ha paura dell'uomo nero che esce dall'armadio se arriva il genitore accende la luce il bambino non ha più paura anche se apre l'armadio una paura messa in luce fa molto meno paura di una paura che non si conosce quindi è per quello che dico di essere sinceri con le nostre paure vedere bene le nostre paure perché le metterete luce e luce faranno meno paura e riuscirete così ad affrontarle allora riforma la domanda e pure quella che cambiando vita mio padre rimarrebbe sprofonderebbe nella sua traduzione come consiglio di fare grazie miriam detta così questo è una specie di ricatto che fai a te stessa cambi vita quindi un altro si scontenta non ti posso rispondere sicuramente con con un commento ora così su due piedi servirebbe un contesto molto molto maggiore diciamo gliel'hai provato a chiedere per esempio molte volte basta chiarire anche le proprie paure se hai bisogno di affrontare un cambiamento e hai questa paura e la persona che comunque ti crea la paura è in vita parla gliene magari ti riesce ad abbassare la sua paura io questa è l'unica cosa che mi sento di dirti senza conoscere la situazione ecco antonella c'è un una sezione proprio di libri da leggere sul mio canale di recensioni la paura viene ereditata sì soprattutto se i genitori quando siamo piccolini ce la fanno vivere tantissimo poi il non pensare sensazione a condizione che ti procura paura è giusto cioè a convincersi che non esiste non è così che aiuta nascondere dalle paure no non è mai giusto le paure comunque sia vanno affrontate vanno gestite quindi far finta che un problema non esista non è che te lo fa scomparire allora simona dopo tanti anni ho conosciuto una persona che mi piace sono dubbiosa però se sia giusto lasciare aspetta che mi sta scorrendo messaggi lasciare fermi tutti che le cose vadano da sé perché non so se ci sarà mai storia oppure manifestare simona non so risponderti nel senso non sono quelle domande fatte un pochino a al volo e ripeto serve sempre un contesto quali sono le sue abitudini mentali perché è paura perché ha paura che si è trovato la persona giusta non ti puoi buttare ecco quindi queste sono tutte cose che vengono dalle tue credenze dalle tue abitudini passate non ti so rispondere bellissima sonia cortoni la paura busso alla porta il coraggio andò ad aprire non c'era nessuno questa segnate vela tutti perché fantastica sciva grazie a te e ti do del tu perdonami allora per superare le paure cerco di andare per piccoli passi bravissima angelica faccio lo stesso con le attrazioni funziona e mi dà fiducia i miei obiettivi però sono importanti allora angelica qualsiasi piccolo passo è un obiettivo importantissimo perché se te prendi fiducia giorno dopo giorno come feci io a suo tempo le attrazioni diventano sempre più grandi e sempre più soddisfacenti quindi ogni piccolo passo che sta facendo te adesso è il più importante obiettivo che sta raggiungendo quindi bravissima le nostre paure sono spesso la nostra pigrizia marlena assolutamente si è la zona di comfort è il nostro auto sabotaggio quindi quando uno ha paura di fallire per esempio si fa un bel lato sabotaggio e non agisce quindi bravissima allora vediamo siete velocissimi a scrivere siete dei fulmini fantastici allora vediamo ho scoperto adesso che la mia paura di avere più soldi e che dovrò dare anche ai miei genitori ho paura che mi rimangano pochi per non poter far nulla vedi parlando re escono le paure joelena si possono affrontare in questo caso magari con un po di chiarezza sulle paure un pochino di autostima è un pochino di sano egoismo come si suol dire carolina come eliminare le resistenze durante la manifestazione grazie non ti posso rispondere in parole semplici pubblico video proprio su questo argomento da tre anni circa e quindi ti consiglio di dare un occhio molto approfondito dal mio canale a tutto il canale di quanto parlo quando parlo di legge d'attrazione se fossi così bravo da spiegarlo in in pochi minuti avrei già chiuso credo allora da che dipende se accade il contrario da ciò che ho manifestato per senza usare il non vera gioia allora la legge d'attrazione non è una frase che dici non è un pensiero che hai è tutto l'insieme di chi sei delle tue paure delle tue credenze delle tue frasi delle tue idee delle tue dei tuoi valori delle tue paure quindi se io dico voglio attrarre ricchezza e poi dentro centinaia di paure il non il non serve per scrivere con i mantra una credenza nuova ma se manifesti il contrario vuol dire che internamente da qualche parte hai una credenza limitante hai una paura che ti richiama proprio a quella cosa lì la paura di non riuscire non ti fa riuscire la paura di non attrarre o la paura di attrarre il contrario ti fa tra del contrario quindi il non è quando si scrivono i mantra quando si scrivono le affermazioni per scrivere l'abitudine mentale ma il mantra non fa manifestare sarà la tua mente abbastanza pulita e potenziata che ti aiuterà a manifestare allora buonasera tre anni fa mi hanno cambiato ruolo al lavoro ho avuto tanta paura nel cambiamento mi sono reinventata il ruolo e l'ambiente lavorativo inconsciamento facevo ripetizione ora sono sono conosco sì perfetto grazie per la risposta grazie a te allora vediamo vediamo se riesco a rispondere a altre domande prima di chiudere perché ho visto che sono già le 10 e 22 22 22 bellissimo max come fare a individuare le paure volendo ampliare il mio lavoro consapevolezza questa è la parola parola che sto usando di più dal 2021 quindi da gennaio un sano dialogo con te stesso un sano dialogo sincero con te stesso consapevolezza non c'è una formula magica non c'era una formula matematica quanto parli con te stesso io so quali sono le mie paure basta che ci ragiona un attimo ecco quindi te dovrai sapere quali sono le tue ragionando con te stesso ripeto grazie grazie da fine maggio mi sono iscritta se è stato il primo grazie basta basta la paura abbiamo diritto di vivere talia grazie grazie a te rosaria ho paura delle malattie e su mantra mi stanno aiutando tantissimo mi fa piacere di usare mi fa molto piacere miranda a me sono successe cose strane adesso ho paura di fare la legge d'attrazione allora io ho paura di fare il pane fatto a casa perché una volta mi sono bruciato la legge d'attrazione miranda non si fa è sempre intorno a te come l'aria che respiri e questa è la legge d'attrazione ogni tuo pensiero è legge d'attrazione ogni tua azione è legge d'attrazione non è che stai facendo legge d'attrazione quindi cerca di avere chiaro cos'è la legge d'attrazione ecco allora marlena la legge d'attrazione funziona senza porre altrimenti non funziona no marlena funziona sempre funziona attraendo la paura in quel caso ogni cosa è legge d'attrazione anche la paura però se ho paura di perdere il posto di lavoro perdi il posto di lavoro perché stai attraendo paura di perdere il posto di lavoro è per quello che dico sempre di guidare l'intenzione e l'attenzione all'obiettivo solo all'obiettivo quindi voglio tenere il mio posto di lavoro ho un bellissimo posto di lavoro godo del mio posto di lavoro non ho paura di perdere il posto di lavoro se no si perde il posto di lavoro si possono ascoltare più video subliminali certo che sì i limiti li diamo sempre noi mentalmente schemi mentali dei genitori ho parole sentite da professori come eliminare tipo non valian si è capace di fare niente sì alessio questo canale è nato proprio per eliminare tutte quelle credenze brutte maria buonasera grazie di tutto ma sento l'esigenza di parlare con me stesso oppure da affrontare e naturalizzare buonasera a tutti grazie maria grazie a te grazie della presenza lando se chiedi di andare sulla nuova ricorda di chiedere anche la tuta spaziale di tornare certo assolutamente sì bisogna essere molto precisi allora vediamo 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 bene sto capendo grazie a te la legge da trazione ti fa prendere in mano la sua vita ti sveglia e ne rende responsabile vivere in modo attivo e non passivo amarsi entrare nel proprio potere bravissima maria rosaria io vorrei ritornare con la mia famiglia e ho molta paura di ricommettere miei errori dal momento che lì che sai quali sono le sue paure le puoi tranquillamente affrontare se hai paura di commettere errori puoi scegliere di non fare più quegli errori se gli errori sono dovuti ad altro puoi agire magari chiedendo aiuto a un professionista e qualsiasi cosa se riconosci tuoi le tue paure le puoi affrontare le puoi gestire e quella la cosa bella conoscere bene le proprie paure e agire senza fermarsi alla paura perché altrimenti non non si cresce non si evolve allora vediamo 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 buonasera a tutti ma perché perché il mondo esterno ci bombardano le credenze negative qual è lo scopo massimo controllo direi solo questo controllo allora oggi mi sentivo giù di morale e con te capendo le neppure mi sento tipo spider man alla grande oddio fantastico patti qui c'è un ti consiglio di vedere tanti dei miei video tutto è legge d'attrazione tutto tutto quindi devi guidare la tua attenzione solo dove vuoi andare non dove non vuoi andare altrimenti attrai tutto dove la tua attenzione c'è l'attrazione se ti focalizzi sulla paura attrai quella paura se ti focalizzi su un'altra cosa bella attrai quella cosa bella è quello tutto è legge d'attrazione mary la legge d'attrazione funziona bisogna solo avere una mente disciplinare lavorare su se stessi e permettere solo ai pensieri positivi di entrare in noi bravissima mary ottimo agnese grazie a te allora vediamo ti ho scoperto da poco e seguo attentamente per ora ti dico un grande grazie perché mi stai dando tanta serenità con i mantra daniela grazie a te anche questo è lo scopo dei mantra rilassare tranquillizzare farci stare bene se noi stiamo bene attraiamo cose belle ho paura di innamorarmi l'ella ho paura di innamorarmi perché non mi fido facilmente dopo aver sofferto parecchio nello stesso tempo nello stesso tempo voglia di innamorarmi perché mi succede grazie l'ella perché non hai lasciato andare il passato semplicemente per questo perché si sono formate delle credenze limitanti sull'amore quindi gli uomini magari sono tutti cattivi gli uomini mi tradiranno fino a che non farai un tuo percorso di perdono di crescita personale di rimozione comunque di elaborazione del passato avrai sempre paura quindi quello insomma anche lo scopo dei mantra è proprio cambiare le credenze che ci limitano del passato sono bloccata non so cosa voglio come capire la propria strada crescita personale consapevolezza si risponde male a queste cose perché comunque è una domanda molto generica chi sei perché sei qui qual è la sua storia dove vuoi andare ci vuole una sana consapevolezza e tanta tanta crescita personale è quello il discorso grazie fiorella grazie mille ubaldo sul canale ubaldi o ubaldi va sul canale c'è un una sezione di recensioni quindi ti consiglio di andare a vedere e c'è qualche libro segnato che parla comunque di legge d'attrazione crescita personale più o meno interessante quindi ti consiglio di andare a vedere la sezione sul canale che parla di legge d'attrazione di scusami di recensioni perché quando ascolto subliminali addormento sonia se sei sdraiata può essere normale perché comunque stai ascoltando della musica rilassante semplicemente per questo la posizione addormentata è sdraiata magari se sul letto se cambi posizione sicuramente non ti addormenti però anche lì chiedere perché ti addormenti strano nel senso la musica rilassante quindi è normale rilassarsi anche comunque li puoi ascoltare anche dormendo vanno benissimo lo stesso allora 22 31 faccio l'ultima domanda dai faccio un'ultima domanda e poi vi auguro una bellissima bellissima serata allora e intanto dico questo intanto dico questo grazie per essere stati qua con me grazie per questo 18 luglio 2021 grazie 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 a tutti voi che rendete comunque il canale dna health più ricco di contenuti anche con le vostre richieste state richiedendo molti video io cerco di farli più possibile elvira 55 per 5 c'è un bel video anzi due sul canale detto questo ecco faccio così vi do la buonanotte è veramente un onore per me essere qua se non ho risposto alle vostre domande ci sono i link per contattarmi sotto in descrizione sia facebook instagram e la mail rispondo quando posso perché io utilizzo il mio tempo libero per il canale dna health quindi quando posso risponderò solo quando posso quando non posso dovrete attendere anche perché ho ricevuto mail seriali da una persona mi diceva ma perché 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 poi ho visto erano a distanza di sei ore l'una dall'altro quindi quando posso risponderò a tutti voi ancora grazie stanotte sarà una notte bellissima per tutti voi dormirete benissimo sognerete tantissimo e sarà una bella una bellissima estate per tutti dai ve lo auguro quindi signori buonanotte buonanotte grazie 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 di tutta questa compagnia a presto ciao grazie a tutti